Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, oggi siamo andando a Zafferano per l'Ottobrata Siamo andando a Zafferano a divertirci un po' a fare due riprese per vedere quello che c'è, se c'è Pico o se non c'è Pico Secondo me sì, qualcosa troveremo Lascio la parola a te, tu devi fare una capacità Speriamo di trovare qualcosa di buono, la giornata è buona, speriamo di divertirci dai Tu che è Dio Saluta Ciao ragazzi siamo arrivati ora a Zafferano, un bello posto accogliente, culturale, molto barocco E anche c'è molto da vedere, vero Fabio? Sì dai direi che c'è davvero molto da vedere, è una bella città e c'è tanta gente, speriamo che ci divertiremo Sì vediamo tante belle cose, vi faremo vedere anche a voi il nostro pubblico, tante cose belle e culturali che animano la nostra Sicilia E' caro Russo, vi faremo divertire Grazie lo tolgo, compadre quello che c'è Eh caro mio Ragazzi 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 il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti! è un lavoro un massaglia un'esercizio nooo dai i non ci sono come dai fiasa metto le due 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 perchè la metto le due due passa il giorno ora va papà papà Grazie. Grazie. Come è questa focaccia? Mi dispiace, dai. Un po' freddo, un po' caldo, però va bene, dai. Non facciamo che mangiare, dai. Per l'antipasto, per l'antipasto. Per l'antipasto, per l'antipasto. Per l'antipasto, per l'antipasto. Non pare che ne dici questa focaccia. Per l'antipasto, per l'antipasto, per l'antipasto. Grazie, che colpetti che vado, che è sul numero uno. Che è il primo sangucetto, che è buone. Ottimo panino. Colpette, cipolla, patatine e Worcester. Eh, Worcester è uno. Ah, direi che mi sono buoni. Ok. Quindi? Grazie a tutti. 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 Buongiorno. Saluta, saluta. Saluta. È il numero uno, il nostro primo panso. Vai, vai. Allora... Ciao ragazzi, benvenuti, siamo... No, allora... Che ne dicevamo fare una bella giornata? No, oggi è molto bella. Abbiamo finito ora di mangiare, stiamo abbastanza pieni. Stiamo smatteno. Abbiamo mangiato abbastanza pesante. È stata una bella giornata. Mi manca un cagnolo a cioccolare. E ora mi manca un dolcino, un bel caffè, così... E poi una bella comodata durante il viaggio per il ritorno.